È stata un'esperienza che ha superato qualsiasi aspettativa. Ho partecipato a quattro giornate formativi a Bruxelles alla AIA ed è stata un'occasione unica, irripetibile, per poter vedere come funzionano le istituzioni europee e avere modo di conoscere effettivamente quello che si sta facendo a livello internazionale. Le giornate formative a Bruxelles alla AIA sono state un'occasione per mettere a frutto competenze che man mano sono state accumulate. Ho avuto modo di incontrare persone competenti. che mi hanno potuto dare un'immagine di quello che potrebbe essere il mio futuro formativo e professionale. È stata un'occasione unica per vedere un po' al di fuori dei libri quello che succede qui e l'occasione e le opportunità internazionali. Mi ha colpito molto sentire le storie personali delle persone che ci lavorano come sono finite qua. magistrati e appunto distaccati dai loro paesi che formano i National Desk e tutti insieme poi il collegio di Eurojust, ma anche formata da staff dell'Unione Europea come me. Mi hanno fatto comprendere l'importanza della cooperazione nel contrasto alla connessione e all'abilità organizzata, la quale è maggiormente tangibile quando si è a contatto col campo operativo. Mi hanno dato la possibilità di toccare dal vivo l'intreccio che costantemente coordina le varie istituzioni europee e avere una panoramica sul nostro contesto internazionale sempre più vicino.